Enzo Bianchi, buongiorno. Buongiorno a tutti. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole per anticipare, seppure nella brevità di questa conversazione, il tema che lei propone al Festival Filosofia edizione 2021, che è stato voluto con la parola libertà, che è la parola guida. Però la parola libertà con l'incontro di Enzo Bianchi si pone in una condizione molto particolare, perché l'incontro che lei domani, domenica 19 settembre a 17.30, avrà a Carpi è questo. Peccato. Una chiamata alla responsabilità. Ora, la parola peccato oggi è una parola molto facile da pronunciare, è molto difficile da comprendere a volte, perché diamo sempre molti risvolti alle parole e spesse volte nei risvolti perdiamo il significato stesso, tra la parola peccato e le altre parole. Ecco, oggi Enzo Bianchi, la parola peccato, che cosa significa? La parola peccato, appartenendo al linguaggio religioso, devo dire che oggi è abbastanza tralasciata, viene sostituita nel linguaggio corrente da tante altre espressioni, errore, mancanza, sbaglio. Nello stesso tempo, quando viene evocata, sembra non avere più nessun spessore. Quindi è una parola oggi che è difficile proprio, è incapace di veicolare il suo significato profondo, che ripeto, è un significato profondo all'interno di un mondo religioso e oggi noi siamo in un mondo che non è più religioso, per cui questa parola va decodificata per il suo significato umano e io credo che vada anche spogliata di tutti quei riferimenti religiosi e a Dio che porta con sé. Questo perlomeno per quelli che non credono in Dio, altrimenti non saprebbero usare questa parola se non in una maniera molto banale che indica un errore commesso e di cui si sente la colpa. Quindi in realtà non è molto facile. Ci può aiutare, io credo, quello che cercherò di fare anche domani nell'itinerario che proporrò agli ascoltatori, di decodificare innanzitutto proprio il linguaggio sia ebraico che greco del mondo religioso che ha partorito questa parola, essenzialmente la Bibbia, e una volta che è decodificato cercando di coglierlo nella nostra esistenza. Oggi cosa significa peccato? E vedere che oggi peccato significa soprattutto ingiustizia, significa malefatto, significa violenza, significa un atteggiamento che porta del danno agli altri. Ma nessuno certo pensa più alla definizione del peccato, tipica del catechismo e della grande tradizione, che il peccato è disobbedienza a Dio. Dice ormai poco questa locuzione, sia perché Dio è scomparso dagli orizzonti, sia perché una disobbedienza a Dio non è sufficiente oggi per dare una coscienza di colpa o di responsabilità a chi eventualmente non è credente. Quindi noi dobbiamo riferirci di più a quello che succede. E che cosa noi vediamo? Vediamo dei fatti che sono portatori di morte, di violenza, di male, che rompono la situazione di pace, di armonia tra le persone, la comunicazione. Tutto questo ci fa sovente indignare, emozionare. Questo è il peccato che appare. Di qui si aprono poi degli itinerari eventualmente per dire come possiamo contrastare o come possiamo trascendere queste situazioni per ripartire in situazioni in cui queste infrazioni mortifere a quella che è la pienezza della nostra vita, della nostra felicità, possono in qualche misura essere riportati a una bontà di vita. Enzo Bianchi, vorrei fare altro che un passo indietro, andare proprio all'inizio della Bibbia. Adamo, dopo il peccato, si sente rivolgere questa domanda che hai fatto? Ed è una domanda che nel tempo risuona e come risuona oggi all'uomo contemporanea quella domanda? Che hai fatto? Ecco, il problema vero di questa domanda decodificando appunto il racconto della Genesi è che questa voce che la Genesi la mette in bocca a Dio certamente viene dall'interno dell'uomo ed è quella che noi chiamiamo la voce della coscienza. Questo io credo che è qualcosa di molto importante che in parte è acquisito ma non ha mai ancora avuto un'acquisizione veramente piena anche all'interno della tradizione cattolica che cita la coscienza ma poi non dà veramente questo primato che la coscienza si merita. Certo, la dottrina tradizionale cattolica arriva a dire che la coscienza è il vicario di Cristo che la coscienza è l'ultima istanza alla quale bisogna obbedire che la coscienza ha un'autorità molto più grande di quella del Papa dei Vescovi della Chiesa arriva a dire che extra coscienza nulla salus fuori della coscienza non c'è possibilità di via di salvezza però poi nell'apprassi la gente non è assolutamente aiutata a far crescere in sé la coscienza a esercitare la coscienza ad avere una coscienza formata illuminata confrontata con gli altri non una coscienza che sia invece semplicemente di riferimento a se stesso e tantomeno una coscienza fai da te ma questo è il punto centrale quello da cui scaturisce è la libertà e la responsabilità perché se manca questo allora veramente noi umani non abbiamo un orientamento e non siamo davvero liberi di respingere il male e non siamo liberi di fare il bene il peccato che si colloca Enzo Bianchi possiamo dire è un crocevia molto edigmatico con cui l'umano si trova sempre a fare i conti e sembra anche che il peccato si ponga come questo sentiero difficile anzi una strettoia attraverso cui dobbiamo passare per rimanere imprigionati oppure approfittare di quella cosiddetta prigionia per cogliere un senso più profondo e ampio della vita quindi il peccato come possibilità di apertura certamente da un lato anche qui attingiamo pure alla scrittura San Paolo da un lato afferma la libertà di tutti noi nello scegliere il bene e il male quando uno ha una coscienza formata arriva a un discernimento tra il bene e il male e scelte però Paolo stesso dice non il bene che voglio fare faccio ma il male che rifiuto che non voglio fare finisco per fare perché la nostra libertà è fragile la nostra libertà è una libertà tentata la nostra libertà è soggetta delle pulsioni profonde che sono in noi che sono le pulsioni della vita animale che noi non abbiamo tralasciato e che opera in noi nonostante il cammino di umanizzazione che facciamo noi siamo degli animali che cerchiamo di diventare uomini ora l'animalità che è in noi che è fatta di violenza di prepotenza che è fatta di sopravvivenza contro gli altri e senza gli altri tutto questo ci porta al male e la nostra libertà in quel senso a volte è fragile tanto vero che tutti gli uomini finiscono per fare il male chi più chi meno è una lotta è una battaglia contro il male ma non c'è un uomo una persona che non abbia fatto il male che non abbia conosciuto a un certo punto atti di violenza che lui ha compiuto prepotenza misconoscimento dell'altro lo sappiamo bene per cui il male alla fin fine è addirittura non dimentichiamo la lezione che ci è stata fatta da Anna Arendt è addirittura della banalità la banalità del nostro quotidiano la banalità dei nostri rapporti e tuttavia richiede una resistenza forte richiede una lotta richiede che le pulsioni che noi sentiamo in noi siano umanizzate e ci portino alla pienezza di vita al bene al bene fraterno alla pace fraterna alla concordia sociale all'almonia altrimenti noi siamo sempre sempre costretti a atti di violenza o a omissioni che sono complicità della violenza Enzo Bianchi secondo lei il peccato può essere visto può essere visto come una una possibilità che la psiche mette a disposizione di noi per ricordare anche le nostre radici spirituali e quindi incominciare un processo di trasformazione no e quindi il peccato come possibilità per raggiungere una trasformazione ma certamente noi ricorro semplicemente a una sapienza popolare impariamo sbagliando e di conseguenza i peccati che commettiamo dovrebbero essere innanzitutto generare in noi un senso vero di colpa che si traduce in un senso di responsabilità e di conseguenza in un cambiamento del nostro atteggiamento e l'acquisizione di un atteggiamento il quale sia contrario al male che abbiamo commesso che abbiamo fatto certamente noi esenti dal male e dal peccato non lo siamo e per questo all'interno della tradizione cristiana l'ultima parola sul peccato è poi il perdono perché se non ci fosse il perdono il peccato è davvero semplicemente un vortice infernale che ci porterebbe nelle profondità della morte senza possibilità di redenzione per cui anche il male alla fin fine può essere per noi un'occasione di trascendere e imparare e venirne fuori con un'esperienza che aiuta ancora di più quel che è la relazione con gli altri la comprensione degli altri certamente il male non è la parola definitiva è una contraddizione grande ma la parola definitiva può solo essere perdono la parola definitiva può solamente essere perdono ma il perdono non è una cosa automatica io ricordo Enzo Bianchi ho partecipato a Torino Spiritualità e ho assistito a un incontro con un suo caro amico Massimo Recalcati e parlava del peccato esattamente lo scorso anno e diceva Massimo Recalcati se ricordo bene che il peccato è mettere il talento sottoterra e non fare proprio nulla del proprio talento non fare nulla che entri dentro il desiderio e questo il peccato è solamente anche una visione un po' troppo psicoanalitica secondo me è una variante del peccato una possibilità ma non possiamo ridurlo semplicemente a questo perché indubbiamente il desiderio che è in noi è il desiderio che va riconosciuto che va risvegliato e nel quale noi dobbiamo investire quello che è il talento ma rendiamoci conto che sovente proprio il desiderio di per sé su questo va detto con chiarezza non è sempre buono anche sul desiderio ci deve essere un discernimento ci sono dei desideri che sono contro gli altri pur essendo profondi in noi ormai sappiamo questi abissi che stanno in ogni persona uomo donna e quando noi pensiamo anche a un desiderio come quello dell'amore e che si trasforma in una violenza si trasforma in femminicidio noi vediamo che indubbiamente è la perversione del desiderio e in questo caso c'è una guerra da fare a quel desiderio pulsione che sia non è sempre facile quindi certamente investire i talenti che abbiamo è necessario altrimenti è un peccato di omissione però tenga anche conto dell'esperienza credo che tutti noi anziani almeno io di aver visto tanta gente che non ha gli strumenti neanche per leggere il proprio desiderio sono dei poverini che sono cresciuti in una maniera che non gli sono stati forniti gli elementi per una lettura di se stessi non hanno una vita interiore abbastanza profonda per dire ecco cosa sto cercando ecco cosa desidero sono parecchi noi non possiamo solo parlare di quelli che a un certo punto hanno raggiunto una certa vita interiore una certa qualità di vita umana tanti sono davvero semplicemente sbarriti e sono in situazioni di cammino allora anche su questi c'è una responsabilità del bene e del male ma bisogna aiutarli a fare questo cammino verso il desiderio perché di per sé il desiderio non sempre è quello che noi possiamo possedere con lucidità e dominare dentro di noi e sì perché poi andiamo anche a toccare Enzo Bianchi quello che già dagli antichi greci forse prima il principio di responsabilità perché il peccato il peccato è lo diceva Sant'Agostino il peccato è sempre volontà io penso che il peccato è sempre volontà prima cosa seconda cosa porta sempre la responsabilità terza cosa è sempre contro gli altri e contro la terra non c'è mai un peccato che sia direttamente contro Dio o gli dèi gli dèi e Dio possono sentire il peccato ma il peccato è qualcosa che consumiamo contro di noi contro gli altri contro questa terra che è nostra madre o contro noi stessi non è sbagliato quando si dice il peccato è contro Dio e poi le conseguenze contro gli uomini no il peccato è contro gli uomini e certo per i credenti siccome infrange la volontà di Dio è anche una ferita Dio ma si manifesta come danno come morte come ferita come violenza come male come sofferenza negli uomini nei nostri fratelli nelle nostre sorelle Enzo Bianchi la trattengo ancora per qualche minuto perché giorni fa sempre per raccontare il Festival Filosofia abbiamo ragionato sul tema del libero arbitrio e perché anche nel libero arbitrio entra se vogliamo il senso del peccato la responsabilità della colpa partendo in quella conversazione partendo dalla tesi del libero arbitrio e del servo arbitrio cioè della discussione tra Erasmo da Rotterdam e Martin Lutero ora in questo libero arbitrio che spazio ha oggi il peccato? Ma vede il problema era stato non solo quello messo poi a fuoco da Erasmo e Lutero ma ben prima da Agostino e già all'interno del mondo greco noi ci siamo liberati certamente dell'anarche della necessità del destino e abbiamo affermato la responsabilità e la libertà dell'uomo però ha ragione anche Lutero questa nostra responsabilità è una responsabilità fragile la nostra libertà è limitata non è vero che noi possiamo scegliere alla stessa maniera il bene e il male perché noi vediamo che come cresciamo il male si introduce in noi nessuno di noi sa dire quando il male si è introdotto nella sua vita nelle sue vibre ma a un certo punto abbiamo scoperto di aver fatto il male abbiamo scoperto di aver fatto il male chi ce lo ha introdotto chi ce lo ha messo dentro e quindi la nostra libertà è una libertà ferita da un lato noi possiamo dire certamente no al male alla violenza al peccato ma d'altro lato c'è una dominante forte una seduzione delle pulsioni che ci porta facilmente al peccato ne ho fatto un esempio molto semplice ognuno di noi vuole vivere ha dentro di sé delle forze che sono quelle degli animali che sono di vivere ad ogni costo e dentro di noi come gli animali noi di fronte a una preda non vogliamo dividerla con gli altri vogliamo mangiarla noi perché viviamo noi noi come gli animali vogliamo semplicemente per la prosecuzione della specie possedere certamente la femmina nel caso degli animali e avere poi una progenie una discendenza è quella che noi chiamiamo la vitalità la forza della vita ora se tutta questa forza indubbiamente opera in noi e ci rende tutti in qualche maniera con una libertà fragile perché le forze sono molto forti noi non abbiamo una seduzione su di noi del bene come ce l'abbiamo del male lo scopriamo dentro di noi quindi da un lato è vero che noi siamo liberi ma dall'altro lato è vero che la nostra libertà è fragile è ferita non è mai piena non è mai totale e su questo bisogna dire che anche la chiesa cattolica ha mutato rispetto ai tempi in cui difendeva semplicemente un libero arbitrio assoluto e ha dovuto percepire che anche lei che indubbiamente c'è una situazione di fragilità della nostra libertà la nostra libertà è fragile è fragile possiamo esercitarla ma abbiamo delle dominanti efficaci che ci seducono e che ci sportano soprattutto verso la filautia a pensare noi stessi alla nostra sopravvivenza senza gli altri e eventualmente contro gli altri e questo è il peccato ma chi confonde gli esseri umani chi li abbaglia Enzo Bianchi insomma chi ci induce a peccare ora anticamente c'era Ate la figlia più grande la figlia maggiore di Zeus che induceva in errore gli uomini e li faceva peccare in tracotanza in ubris forse è ancora questa il nostro peccato maggiore quello della presunzione di essere della nostra deificazione certamente se uno legge la prima pagina della Bibbia e cerca di codificarla come anche i miti greci sembrerebbe il peccato nasce sempre dal voler essere come Dio come gli dèi e non avere limiti certamente c'è qualcosa di vero in quel mito di quell'albero in cui si vuole mangiare per essere come Dio in cui si vuole essere quelli che si decide ciò che è bene ciò che è male senza tener conto degli altri però l'origine di questa seduzione in noi non l'ha spiegata nella Bibbia né il cristianesimo né Gesù Cristo né la teologia della Chiesa l'unde malum da dove il male e come viene a noi resta misterioso come la morte che poi ne è l'epitania del male resta misterioso c'è vede un testo molto poco conosciuto ma significativo nella lettera agli ebrei in cui si dice che gli uomini per paura della morte fomo tutanato per paura della morte sono alienati durante tutta la vita e indotti a peccare è molto misterioso enigmatico questo testo ma dice la verità è quel che cercavo di dire prima noi vogliamo vivere ad ogni costo e per paura della morte e delle energie mortali noi vogliamo diventare ricchi non tenendo conto dei poveri vogliamo diventare prepotenti non tenendo conto dei deboli vogliamo conquistare anche fino all'oppressione degli altri proprio per questa paura della morte che ci abita e che ci agisce e ci porta alla filautia al pensare solo a noi senza gli altri e contro gli altri lì per me c'è tutto il peccato e il solo peccato che noi umani commettiamo la paura della morte che già nel libro di Job era definita la regina la regina delle paure la regina delle paure Enzo Bianchi ricordo ai nostri ascoltatori l'appuntamento di domani domenica 19 settembre a Carpi con la lezione magistrale dedicata al peccato una chiamata alla responsabilità ricordo anche in chiusura il 28 settembre l'incontro ad Alba per il festival profondo umano sul tema sbagliare imitando Cristo prima di salutarci Enzo Bianchi qual è il libro? Saluto a tutti grazie grazie ancora buongiorno a presto grazie a tutti